Da 50 anni di esperienza a Stilbagno nasce Camer. Passerà la storia come il ministro del limite dei 110 km in autostrada, Menrico Ferri, ex politico e magistrato, scomparso ieri sera nel suo pontrimuli. Era molto di più. Aveva 78 anni ed era da tempo malato. Dirigente delle PSD, ne è stato anche segretario. Dopo Tangentopoli approdò a Forza Italia e l'Udc e fu eletto europarlamentare. Ferri è stato anche leader della corrente di magistratura indipendente, ma è stato anche ministro dei lavori pubblici nel 1988-89 con il governo De Mita quando impose il limite di velocità di 110 km all'ora sulle autostrade. Da ministro inaugurò la superstrada Colico-Lecco, all'epoca priva solamente dell'attraversamento di Lecco, come oggi tutti noi lo utilizziamo. Era il 30 settembre del 1988 ed il ministro Ferri tagliava il nastro davanti al giustamente orgoglioso dottor Giovanni Cariboni, all'epoca sindaco di Colico. In quegli anni era ancora fresco ricordo dell'opera dell'azienda Cariboni, guidata dal fondatore Paride, padre di Giovanni, durante quei tragici giorni dell'alluvione del 1987 che mise in ginocchio l'intera Valtellina. Presente a quella storica giornata, anche Roberto Marchini, presidente della provincia di Sondro dal 1980 al 1990, dopo essere stato sindaco di Morbegno negli anni 70 con lo scudo crociato della DC. Un giorno giustamente storico per la Valtellina, da quel momento più vicina, in tutti i sensi, a Milano.